Una carta dei diritti e dei doveri per chi vive l'Italia, l'iniziativa della CISL Bergamo Anolf, gruppo giovani di seconda generazione, Dipartimento internazionale Pace e Legalità in collaborazione col gruppo Abele e l'ENGIM Lombardia. Coinvolti gli studenti che hanno redatto un documento che sarà presentato ai primi cittadini di tutti i comuni della Bergamasca per chiedere cittadinanza onoraria ai giovani nati che vivono nel nostro paese, a prescindere dalle origini. Una proposta che dalla prossima settimana noi faremo ai 244 primi cittadini di Bergamo ai quali chiederemo di aderire alla carta e proporremo anche di conferire la cittadinanza onoraria ai ragazzi nati o cresciuti in Italia che risiedono nel proprio comune da almeno 5 anni. La carta è costituita da 10 articoli, il primo enuncia a ogni persona che in Italia nasce o cresce e si forma personalmente e professionalmente al diritto di essere italiano e di essere riconosciuto parte integrante del paese in quanto cittadino. Una persona che nasce in Italia ma che comunque ha delle origini differenti, non abbandona quelli che sono i propri legami, le proprie esperienze, anche se non vissute in prima persona ma magari vissute attraverso gli occhi dei propri genitori. Sicuramente questo è un legame imprescindibile ma questo non vuol dire che debba per forza compromettere quello che è l'esperienza, quello che è la formazione sul suolo bergamasco. La scuola nel progetto ha avuto un ruolo importante. Non possiamo fermare certi processi, noi abbiamo dei ragazzi che vengono da tutto il mondo, origini culturali differenti ma soprattutto dobbiamo calarci nel loro modo di vedere la realtà. Penso che sia importante perché il paese non è costituito solamente da chi nasce in Italia o da chi ha genitori italiani, da chi ha radici in questo paese. Un po' di razzismo l'hanno tutti più o meno all'inizio, dopo magari lo conosci e sei simpatico, diventiamo amici anche per quello è importante.